Si fuma, fa male, ma non quanto una sigaretta. Questo è un modo per accompagnare una serata all'aria aperta insieme agli amici, sorseggiando qualcosa da bere, senza eccedere naturalmente. Dicono così tanti amatori del sigaro, Roberta Cirrincione. Mi rilassa molto, mi piace, fa parte di quella qualità di vita, senza esagerazione. Se assunto, ho fumato, ecco, una volta a settimana, insomma così, con leggerezza. A Castellutveggio, un incontro per appassionati del fumoletto, organizzato allo Slow Smoking Club. Enrico della Pietà, responsabile Davido. Le fasi di lavorazione che portano ad avere un sigaro sono fasi che eliminano tutte le parti meno nobili della pianta. Non si tratta di fumare, ma di gustare. Il ricavato andrà devoluto in beneficenza all'associazione Oasi Verde, a cui da tempo sono legati comici tocchi e tocchino. Andiamo qua per incontrare un po' di amici, ma soprattutto per solidarizzare su un fatto importante, che c'è chi sta peggio di noi, quindi diamogli una mano d'aiuto. Abbiamo cercato chi ha più bisogno di noi, è stato difficile trovarlo, ma l'abbiamo trovato, onestamente sì.